Guanciale e Montanari, Solfrizzi e Natoli, Bisio ed ancora Ospetec sono solo alcuni dei nomi della stagione teatrale a Cortona. Un grande impegno, uno sforzo anche economico ma l'abbiamo fatto in maniera convinta perché il teatro Signorelli, anche per il nome che porta evidentemente siamo nel crew della mostra Signorelli 500, è un teatro che dà molte soddisfazioni per questo ringrazio l'Accademia degli Arditi, tutti coloro che hanno supportato questo programma, una stagione teatrale molto importante che rende davvero orgogliosi tutti noi. 12 gli spettacoli sul palco del Signorelli, due turni per una rassegna fatta tutta di emozioni. Partiamo da una sfida importante perché abbiamo chiuso la scorsa stagione con una media di spettatori più alta rispetto al periodo all'epoca prepandemica e quindi è una sfida che abbiamo insomma voluto affrontare a testa alta insieme, insieme all'amministrazione, insieme all'Accademia con grande entusiasmo. Si tratta di 12 spettacoli di assoluto livello che alternano prosa, danza e musica con interpreti, registi, testi e temi di altissima qualità. Da oggi al via la campagna abbonamenti per assicurarsi un posto in questo viaggio tra spettacoli, opere, commedie e concerti. Cortone On The Move quest'anno sarà il nostro partner per la vendita dei biglietti e degli abbonamenti. Chiaramente tramite il sito internet sia del teatro Signorelli sia di Cortone On The Move sarà possibile avere dei rindirizzamenti all'acquisto degli spettacoli e chiaramente ci sarà anche un numero di telefono dedicato che potrà essere utilizzato per informazioni e rinnovi.